Bella a tutti ragazzi e benvenuti su questa nuova recensione Oggi facciamo The Villian In realtà il gioco è già gioco da un paio di giorni E questo è stato vedendo un nuovo personaggio Così vi faccio vedere fin dall'inizio Ok, il character creation è praticamente identico a quasi tutti gli altri giochi Quindi diciamo che su questa parte non mi soffermo molto Breve descrizione della tipologia di gioco È un GDR isometrico, quindi Diablo style In realtà possiamo dire che è il cugino free di Diablo Perché è assolutamente identico In questo momento come main PG sto giocando l'Evoker Che è una cosa di devastante Solo che essendo il server giù ho optato su fare un nuovo PG Così vi faccio vedere anche un po' il tutorial iniziale Riesco a parlare con calma Allora qui vedete la customization Fra l'altro si sto facendo un voiceover Quindi è un po' complicato Allora Aspettiamo un attimo che fisco di fare il personaggio Ecco Ah, casa produttrice è la glyph La stessa di Archage Quindi come grafica sono veramente avanti È proprio bello Ci sono dei paesaggi, dei panorami molto suggestivi Se come me fate caso a questi piccoli particolari Sono molto divertenti in gioco Sono molto belli Altro vantaggio di questo gioco è come potete vedere Bouncing boobs everywhere Se siete fanatici del Loli Invece il Granadier O il Cannonier Come cazzo si chiama in questo gioco È la classe per voi Perché quando si trasforma in The Villian È una Dark Loli praticamente Ok Entriamo subito in gioco Questo va bene La parte di tutorial iniziale E come potete vedere Le skill fondamentalmente sono abbastanza simili A personaggi di Diablo C'è tutta la guia è identica praticamente Skill sotto Mana potion Alt potion sui laterali E come tutti i MMO Sulla parte destra c'è la Quello che riguarda Tipo tutto il personaggio Il market Skill E cose varie Per quanto riguarda la parte di skill Quindi la parte più GDR Vedremo un poco più avanti Nel frattempo Guardate davvero il paesaggio intorno I dettagli di questo gioco Che a me piace tantissimo per questo La cura del paesaggio In un MMO Avere cura del dettaglio grafico Intorno al personaggio è fondamentale Davvero fondamentale Altrimenti Tutti i MMO rimangono uguali Tutti Ammetto che questo gioco Ha scopiezzato tanto Soprattutto sulle texture Dei Dei Mob Più avanti A inizi non si nota tanto Perché i mob sono un po' più variegati Però appena si arriva già intorno a livello 15 16 Ci sono gli stessi mob Cioè i scheletri blu I Goblin Con i sciamani goblin I troll Però insomma Diciamo i mob sono quelli Cioè Non è come se li possa aumentare più di tanto Un certo no Ecco Altra cosa carina del gioco Che le classi di base Hanno Tutte le stesse skill Cioè nel senso Le prime 3-4 skill Che acquisisce ogni classe Sono identiche per tutti E non sono modificabili Cioè non ci sono rune Non ci sono talenti Per poter Cioè ci sono rune e talenti Ok Ma non ci sono abilità passive Da poter assegnare Cioè non hai uno skill tree Che Te le possa modificare Sono quelle E quelle basta E sono quelle che fanno più danno Fra l'altro Di tutto il vario skill set Cioè Le skill base Tipo il mago C'ha Il chain lightning Che è devastante Io sono a livello 22 È la terza skill Che prendi E fa una pacchata di danni E continuerò ad utilizzarla Perché fa un danno Awe gigantesco Poi Per quanto riguarda Il leveling Io sono arrivato E io gioco poco Ragazzi Perché davvero Non ho tempo Di giocare così tanto Ho fatto 22 Passa Di velli In boh 8-9 ore di gioco Per essere un MMO È davvero pochissimo Però Credo che sia un gioco Molto puntato Sul PVE PVP Finale Quindi Non ti fanno grindare In maniera cattiva Poi ci sono Una sfrocina Di quest E Quindi Non hai parti In cui devi metterti Lì e farmare Mob a stecca Se ti fai le quest Sei obbligato a fare le quest C'è l'autorun Che ti ci porta Le zone sono Abbastanza piccole Quindi è comodo Spostarsi E non ti frantumi Le palle Un'ora e mezza A camminare Da una mappa All'altra Poi ci sono Dei waypoint Che ti teleportano Per 50 silver E 50 silver Te le fai tipo In niente Cioè uccidi un mob Ti droppa una roba Hai fatto 50 silver Sono quelli Grado sfida È Perennemente adatto A livello Cioè I mob del farming Sono abbastanza facili Da fare Cioè Mago e barbaro Ridete Cioè Andate avanti Io col mago Clicco in fondo Alla stanza Tiro due skill E shotto le cose Però se mi toccano Esplodo È un glass can L'ho fatto apposta Bello Divertente Però dovete stare attenti Cioè in un dungeon A me mi ha toccato un mob E mi ha levato Quasi tutto il K e mezzo Di HP che tengo Però c'è 1500 HP Al 22 C'è niente Morto Cioè mi guardo Mi strizzano l'occhio E per il movimento d'aria Esplodo Il barbaro È la stessa roba Cioè Quintali di danni Quintali di HP Però ovviamente Ci deve arrivare Mob Diciamo che se Io gioco con Kuzo Il mio amico Kuzard Lui gioca il barbaro Io gioco il mago Lui mob Ci arriva a malapena A guardarli Però diciamo che Lui è il mio Meat shield I mob Non lo sorpassano Perché se lo passano Io schiatto Veramente Il Cannoneer È questo qui Che state vedendo Adesso È molto bello È divertente Però credo Sia incentrato Più sul PVP Come tipo di champion Come tipo di Personaggio Perché ho visto Dopo un po' Lo skill tree Si basa molto Sul criticenza Sui poison E quelle robe lì Poi c'è anche Il demon hunter Che anche quello È veramente scopiazzato Da Diablo E anche lì si basa Tutto su agiti Criticenza È più tipo un assassin Una roba del genere Quindi probabilmente Sono tutti PG che vanno studiati Per varie combo E altre cosine Per le arene I 3v3 E quella roba lì Il demon hunter Non l'ho provato L'ha provato Kuzo E lui saprà Magari Se interviene Nel video Con un commento Saprà dirvi un po' meglio Non ho neanche visto Lo skill tree Poi cosa Ecco Adesso arrivo alla parte Del primo boss Dopodiché Penso che vi Che farò un breve taglio Per arrivare Alla parte Dello skill Ecco qua Le bouncing boob Che vi dicevo prima Godiamoci questo momento Ok perfetto Lui è il Devilian Il grande E grosso Boss Cattivo Che è una cosa In cui vi potete Trasformare Non è lui Ma ogni personaggio C'è la sua Anzi Vi faccio vedere Poi la particina Di video Dove sblocco Questo personaggio Il Devilian Così vi faccio vedere Il gothic Lulita Che vi diceva All'inizio del video Ok Godetevi questa battaglia È veramente Molto avvincente Del boss Prova a picchiarmi Ok Non basta Ok Eccoci la parte Delle skill Ogni personaggio Ha un ramo Di tre Possibili build Il Il Canoneer C'ha Gunslingar Demolition Opportunist Non me ne sono Non me ne sono Studiato molto bene Questa classe Perché L'ho presa E provata Giusto così Mentre il server Era down E non mi è divertita Tantissimo Però Insomma Carino Questa è il tipo La prima skill Che prendi Che è diversa Dal set base Quindi Direi che Ragazzi Spero che Per oggi Basti tutto Vi faccio vedere Anzi una piccola Parte di gameplay Di me Il cuzzo Che giochiamo assieme Così vedete Un po' La Tipo le mappe Come si sposta Mentre vi saluto E mentre vi dico Le varie cosine di chiusura Come al solito Così vi date un occhio Anche particolare Di mappa Quelli che vi dicevo Com'è tutto ben curato A me è piaciuto molto Mi ha colpito Riassumendo Il gioco È bello Se vi è piaciuto Diablo Volete giocare a qualcosa Di un po' più carino In co-op Io ve lo consiglio tantissimo Di giocare in co-op Con un amico Perché è molto più divertente Avete anche molte più possibilità Di combo in party Per poter rivellare in fretta E poi Se siete in party Prendete un bonus All'exp Al 25% Non è paglia Soprattutto per rivellare in fretta Il gioco è bello Scaricatelo Sono tipo 15 giga Ci vuole un po' Credo sia supportato Anche dalle reti Non molto veloci Quindi chi non ha la fibra Ma ha una semplice DSL Può giocarci tranquillamente Perché non è così pesante E per il resto Ve lo consiglio Se ci giocate Andatemi in gioco Il nick al solito È Ecront Quindi mi trovate lì Con lo stesso nick Aggiungetemi Se magari giochiamo assieme Assieme col Cuzzo Quando ci beccate la sera online Oppure Boh Insomma Se ci giocate Cosa giocate Che classe giocate Se giocate Ievoker Con quale build Ditemi quello che fate Ditemi che ne pensate del gioco Soprattutto Lo consiglio al mio amico Di Bell Che è molto Poco fiducioso Su questo gioco Devi giocarci Perché è bello Soprattutto a te Che è piaciuto Diablo Detto questo ragazzi Come al solito A luce in alto Condividete E fatemi sapere Cosa ne pensate Ciao